Incidente stradale nell'Agrigentino due morti. Le dichiarazioni programmatiche di Schifani all'Assemblea regionale. Regione, investimenti in strutture per la prima infanzia. Manfria, alvia i lavori per la rete idrica. Covid in Sicilia, contagi in lieve diminuzione. Prendiamoci cura, Assemblea cittadina. Ben trovati. Un incidente stradale nell'Agrigentino due morti, un ferito in gravi condizioni. Il servizio. È stato un mercoledì sera drammatico quello che si è consumato nelle strade dell'Agrigentino. Nella fattispecie due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni. In un incidente stradale avvenuto la scorsa sera in Via dei Fiumi, all'ingresso del villaggio Mosè ad Agrigento. Lo scontro frontale, per causa ancora da verificare, sarebbe avvenuto fra tre auto, una BMW, una Mercedes e una Volkswagen Lupo. Le vittime sono Salvatore Lentini, Agrigentino di 54 anni, e Calogera Paino di 74. Salvatore Lentini era alla guida della BMW. Calogera Paino invece era sulla Mercedes, guidata da un 73enne, rimasto gravemente ferito. L'uomo infatti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il quadro clinico viene ritenuto dai medici molto delicato. L'altra persona invece, rimasta ferita in modo lieve, è una donna di 51 anni che era alla guida della Volkswagen Lupo. Per la 51enne è stato necessario il trasferimento con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Agrigentino. Sul luogo intanto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Agrigento. Le dichiarazioni programmatiche del Presidente Renato Schifani all'Assemblea regionale siciliana. È stato il giorno di Renato Schifani all'Assemblea regionale. Il Presidente della Regione Sicilia, nelle dichiarazioni programmatiche, prima di entrare nel merito delle diverse tematiche, ha voluto esprimere una decisa condanna del fenomeno mafioso, dichiarando il massimo rigore nella lotta alla mafia. Prima di dare inizio alle mie dichiarazioni programmatiche, sento il dovere di rivolgere un deferente saluto al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, estremo garante della nuova unità nazionale e delle regole inviolabili della nostra Costituzione. È esordito con queste parole il Governatore Schifani, esprimendo successivamente un pensiero e un ricordo indalebile nei confronti di tutte le vittime della mafia, di cui Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, costituiscono esempio luminare. Il mio Governo combatterà con il massimo rigore ogni tentativo di infiltrazione della mafia nel sistema regionale della spesa pubblica, adottando criteri e comportamenti rigorosi che valgano anche da deterrente. Con questo monito il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha iniziato le dichiarazioni programmatiche all'Assemblea siciliana. La mafia non è di destra o di sinistra, ha continuato, persegue i propri interessi, tentando di infiltrarsi nelle pubbliche amministrazioni per condizionarne a proprio uso i procedimenti che regolano la spesa e i canali di finanziamento. Schifani ha concluso, infine, ricordando tutti i siciliani caduti nelle missioni internazionali di pace. Altro pensiero va a tutti i nostri corregionali caduti all'estero nelle missioni internazionali di pace, ha terminato. Eroi che si battevano per un ideale supremo, lontani dalla loro terra, ma convinti che la pace tra i popoli non è un valore locale ma universale. Alla tenenza dei Carabinieri di San Cataldo è stata inaugurata la stanza dedicata alle donne che accedono in caserma per denunciare violenze o soprusi. La stanza è stata realizzata ad intesa con il Club Soroptimist di Caltanissetta all'interno di un progetto nazionale tra Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Soroptimist International d'Italia. Si tratta di un ambiente protetto e dedicato che tende a un approccio meno traumatico con gli investigatori e che serve a trasmettere una sensazione di maggiore accoglienza alla persona anche a causa delle sofferenze subite. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, il colonnello Vincenzo Pascale, ha ricordato l'impegno profuso giornalmente dalle donne e dagli uomini dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto di ogni forma di violenza e in particolare alla violenza di genere, definita come inaccettabile. Parliamo adesso degli investimenti sulle infrastrutture per la prima infanzia previsti dalla Regione. Si tratta di 4 milioni di euro e su questo vediamo subito il servizio. Sarà di 4 milioni di euro l'investimento per sostenere le strutture di servizi socioeducativi per la prima infanzia. Il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha approvato l'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore no profit. Si tratta di somme derivanti dalla quota residuale delle risorse trasferite dal Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia. L'avviso è rivolto alle associazioni di promozione sociale, alle imprese sociali, incluse alle cooperative sociali, alle associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, agli enti ecclesiastici riconosciuti dotati di personalità giuridica, alle fondazioni, a condizione che nel proprio atto costitutivo sia previsto che l'ente non persegua fini di lucro e a chi ha come finalità lo svolgimento di attività in favore dei minori. Le domande devono essere inviate entro le 13 del novantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Con questo importante finanziamento, evidenzia l'assessore della famiglia e delle politiche sociali Nuccia Albano, vogliamo agevolare la realizzazione di progetti di investimento relativi all'adeguamento, alla rifunzionalizzazione e alla ristrutturazione di asili. L'obiettivo della Regione è incrementare la percentuale di bambini e bambine da 0 a 3 anni che usufruiscono dei servizi di prima infanzia, promuovendo così l'integrazione tra soggetti del terzo settore no profit e amministrazioni locali. La realizzazione nel territorio siciliano di una rete di strutture del privato sociale qualificate, conclude l'assessore, a cui i comuni possono rivolgersi per l'assorbimento delle liste d'attesa, contribuirà a potenziare le misure già messe in atto dalla Regione Siciliana, finalizzata a migliorare l'equilibrio fra vita lavorativa e privata e a incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Al via i lavori di realizzazione della rete idrica nella zona balneare di Manfria. Sono stati consegnati mercoledì 30 novembre dal direttore lavori all'impresa esecutrice i lavori di realizzazione della rete idrica nella zona balneare di Manfria, nel comune di Gela. Si tratta di un altro importante passo, compiuto lungo un percorso condiviso tracciato da Caltacque e Acque di Caltanissetta S.p.a., gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, assieme all'amministrazione comunale di Gela e a Lati di Caltanissetta. L'avvio dei lavori era stato preannunciato qualche settimana fa, durante un incontro convocato dal sindaco di Gela con i vertici dell'Ati e di Caltacqua. Nella prima fase verrà effettuata la ricerca e individuazione dei sottoservizi, per poi procedere con gli scadi e la posa delle tubazioni. L'intervento, finanziato dalla regione siciliana con un importo complessivo di circa 2,3 milioni di euro, avrà una durata di 18 mesi. Saranno complessivamente realizzati oltre 15 chilometri di condotte idriche, con la previsione di servire oltre 500 utenze in regime H24, così come avviene attualmente nel quartiere di Manfria per le utenze allacciate alla rete idrica pubblica, già realizzata nel 2017 sempre da Caltacqua nella zona Lido-Orlando, quale stralcio dell'intervento in questione. Soddisfazione è stata manifestata da parte dei vertici di Atia e Caltacqua per l'avvio di questi importanti lavori, particolarmente attesi dall'amministrazione comunale e dai cittadini che risiedono o frequentano la zona balneare di Manfria, che a lavori completati potranno contare su una rete di distribuzione moderna, affidabile e realizzata secondo standard di massimo rendimento, efficienza e sostenibilità. Cambiamo argomento, parliamo di Covid. In Sicilia contagi in lieve diminuzione, il bollettino del Dipartimento per le attività sanitarie e l'osservatorio epidemiologico. Nella settimana dal 21 al 27 novembre la curva epidemica segna un lieve decremento delle nuove infezioni. Sono stati registrati 10.392 nuovi casi di positività e un'incidenza accumulativa di 216 infetti per 100.000 abitanti. Tassi di nuovi positivi più elevati rispetto alla media regionale si sono avuti nelle province di Catania, Enna, Messina, Trapani e Siracusa. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e i 89 anni. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione. I dati relativi alla campagna vaccinale prendono in esame la settimana dal 23 al 29 novembre. Nel target 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 24,73%, mentre 65.553 bambini, pari al 21,27%, hanno completato il ciclo primario. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,87%. Ha completato il ciclo primario l'89,52% del target regionale. Hanno ricevuto la terza dose 2.769.855 persone, pari al 72,37% di aventi diritto. Il Ministero della Salute ha autorizzato dal 7 settembre l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la somministrazione della dose booster aggiuntiva agli operatori, alle persone di elevata fragilità e agli over 12 in attesa della terza dose, includendo anche operatori sanitari, lavoratori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. Dal 23 settembre è consentito l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la quarta dose, su richiesta dell'interessato a tutti i soggetti di età superiore ai 12 anni che abbiano ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni. Dal 1 marzo le quarte dosi somministrate sono 188.368, delle quali 169.475 agli over 60. Torniamo adesso a Caltanissetta, parliamo dell'assemblea cittadina che si è tenuta su diversi temi, dal titolo Prendiamoci cura. Sin dalle 17 di ieri un'assemblea cittadina promossa dall'associazione onde donne in movimento si è svolta all'interno dei locali in via Crispi, presenti e appartenenti del mondo dell'associazionismo, delle imprese cooperative e sociali, dei club, ma anche dei circoli politici come dei rappresentanti di comitati di quartiere e liberi professionisti. Vari gli interventi su temi che riguardano la città di Caltanissetta, dallo sviluppo al turismo alla sanità fino alle prospettive future della città. Al termine del dibattito e delle testimonianze si è costituita la Convenzione per la città di Caltanissetta, documento sostenuto da chi ha presenziato per promuovere come riporta il documento stesso, strumenti e azioni di partecipazione tra cittadini e istituzioni. L'idea è stata quella di mettere insieme tutte le realtà o quasi tutte le realtà di questa città per confrontarci, perché in fondo tutti gli argomenti hanno qualcosa in comune. Se parliamo di ambiente lo dobbiamo legare allo sport, se parliamo di territorio, se parliamo di cultura la leghiamo all'arte e se parliamo di benessere e cura dei cittadini lo leghiamo alla sanità. Quindi alla fine tutte le associazioni hanno da proporre qualcosa e da scambiarsi valori, idee, progetti. Quindi la nostra idea era proprio quella di mettere insieme tutte queste realtà. La risposta è stata molto positiva, abbiamo visto tantissime associazioni, non tutte hanno preso la parola ma comunque moltissime erano presenti e abbiamo stabilito alla fine di questa riunione di creare una convenzione per la cittadinanza in questo territorio e ci incontreremo successivamente per avviare un percorso che sia più specifico naturalmente rispetto a quanto è stato fatto oggi e che si dia delle regole, dello stare insieme per cominciare a lavorare. Presto l'associazione promotrice comunicherà una nuova data per il prossimo incontro. Il questore di Caltanissette, Emanuele Ricifari e il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Gela, Felice Puzzo, stamattina hanno incontrato gli studenti del quinto anno del liceo classico Eschilo. Un incontro dibattito che si è svolto nell'aulamagna dell'istituto di Gela e che aveva come tema pensare e agire nella legalità. Un'iniziativa di promozione della cultura della legalità tra i giovani condotta insieme alla Polizia di Stato e l'istituto scolastico che è stato appunto diretto dal professor Maurizio Tedesco. È stata un'importante occasione di crescita per gli studenti che si sono mostrati partecipi rispetto all'iniziativa. Parliamo adesso di artigianato a Caltanissetta. Un fabbro nisseno ha realizzato un'opera il cui bozzetto è stato disegnato da Mauro Fornasero. L'opera è stata donata a Santa Barbara. Da un disegno di Mauro Fornasero è nata l'idea a Salvatore Di Mauro di progettare l'opera d'arte che raffigura un minatore e che ha donato insieme alla sua famiglia al quartiere Santa Barbara. Proprio da qui dove i minatori scendevano per andare a lavorare in miniera è che, chi ha lavorato in questo settore, rimane per sempre legato a Santa Barbara, la protettrice dei minatori che si festeggerà domenica 4 dicembre. Sono abitante di questo villaggio da 60 anni e sono innamorato del mio quartiere. Ho pensato sempre di poter fare qualcosa che ricordasse la storia del villaggio. È un villaggio dei minatori, anche se oggi ce ne stanno pochi, però la tradizione del villaggio è quello dei minatori. E allora qualche anno fa mi è cominciata a venire questa idea di realizzare qualcosa che potrebbe avvicinarsi a questa idea. Poi ne ho parlato con il mio amico Mauro Fornasero, alla quale gli ho detto la mia idea. Sulla mia idea lui ci ha lavorato e abbiamo realizzato questo qua. Credo di aver fatto qualcosa che possa ricordare i minatori. Poi questo serve pure, secondo me, per altri scopi potrebbe servire. Per esempio che ancora l'artigianato a Caltensetta c'è e abbiamo molta voglia di farlo. Con questo cercheremo in qualche modo di coinvolgere anche i giovani, perché l'artigianato tutt'oggi potrebbe essere sempre una buona risorsa. Fondi per quasi 5 milioni e 300 mila euro stanziati dall'assessorato regionale dell'agricoltura per l'internazionalizzazione e la valorizzazione sui mercati extraeuropei dei vini di Sicilia. Una misura molto attesa da tutto il comparto vitivinicolo della regione, così ha commentato l'assessore Luca Sanmartino, che ha sottolineato l'importanza di avere sbloccato in tempi record i fondi. Dice ancora, la grande varietà dell'enologia siciliana rappresenta oggi un altissimo valore aggiunto. Nove i progetti ammessi nella graduatoria OCM Vino di prossima pubblicazione sul sito dell'assessorato. Parliamo adesso di sport. Il rugby dà via ad un progetto per i bambini al Palamilan. Ad essere responsabile del progetto, Sonia Orlando, tecnico federale. Parte un nuovo progetto dalla Società della Pallovale di Caltanissetta, presieduta da Giuseppe Lo Celso. Nista Rugby Kids è rivolto a tutti i bambini dai due anni in su. Appuntamento ogni martedì e giovedì al Palamilan. Responsabile del progetto, il tecnico federale Sonia Orlando, figura ormai storica della Nista Rugby come atleta prima ed allenatore dopo. Il progetto nasce per proporre un gioco semplice, dinamico e divertente, rispettando le capacità psicofisiche dei piccoli giocatori. Dal punto di vista motorio contribuisce a sviluppare molteplici capacità motore, in quanto tutte le parti del corpo sono coinvolte e ad accrescere l'interesse del bambino al gioco. Il progetto promuove quindi attività sportiva che va da una fascia di età che va dai due fino a 90 anni. Però in questo particolar caso si rifanno da che va dai due fino ai sette. Quindi vengono qua, fanno psicomotricità, avviamento lo sport, vengono, si divertono, stanno un pochettino insieme e conoscono anche altri bambini. San Cataldese e Catania, un tavolo tecnico in questura con le forze di polizia impiegate nei servizi di ordine pubblico e i dirigenti delle due società sportive. È arrivato il giorno più atteso, quello del big match con la capolista Catania. Domenica prossima, 4 dicembre, infatti alle 14.30, nello stadio Valentino Mazzola di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, si disputerà l'incontro di calcio San Cataldese Catania, valido per la quattordicesima giornata, girone I, del campionato nazionale di serie D. Ieri mattina, al fine di programmare idonee misure di ordine e sicurezza pubblica, si è tenuto in questura un tavolo tecnico al quale hanno partecipato le forze di polizia che saranno impiegate nei servizi di ordine pubblico e i dirigenti delle due società calcistiche. Nel corso della riunione, svoltasi in un clima di distesa collaborazione, è stato concordato che alla tifoseria ospite del Catania sarà riservata la gradinata dello stadio Mazzola, abitualmente riservate ai tifosi della San Cataldese, con una capienza di circa 1.500 persone. Il comando della Polizia Municipale di San Cataldo, inoltre, ha individuato come aree di parcheggio riservate alla tifoseria ospite le vie Peppino Impastato e Baba Urra. Per chi arriva da Catania, poi, dopo aver lasciato la 19 in direzione Caltanissetta, si consiglia di proseguire sulla strada statale 640 fino all'uscita di Caltanissetta e poi proseguire percorrendo la via Due Fontane fino a San Cataldo. Leonfortese Nissa, divieto di trasferta per i tifosi biancoscudati. Trasferta di Leonforte è vietata domenica per i tifosi della Nissa. In un comunicato, la società biancoscudata dichiara che a seguito dell'ordinanza emessa dalla Prefettura di Enna, viene fatto assoluto divieto ai tifosi nissiani residenti nella provincia di Caltanissetta di acquistare biglietti per assistere alla partita Leonfortese Nissa del campionato di eccellenza. Tale ordinanza è stata emessa sia per la concomitanza dell'altra partita definita calda tra Enna ed Acragas, sia per la notoria accesa rivalità tra la tifoseria organizzata e la Nissa e quella di Enna ed Acragas. Nell'emettere tale ordinanza hanno avuto probabilmente peso anche gli scontri tra le tifoserie avvenuti in questo campionato nelle partite tra Acragas e Nissa all'esseneto e più recentemente tra Nissa ed Enna e Palmindelli. Dispiace veramente tanto che la Nissa non possa avere il supporto dei propri tifosi in questa importante trasferta a Leonforte e ci auguriamo che ciò non accada anche nelle prossime partite, dichiara Davide Volpe, dirigente della società e responsabile dei rapporti con le istituzioni. Ivan Lavardera è il centrocampista classe 1999 che ritorna alla Nissa. Nel suo curriculum da giocatore, anche il Misilmeri, Scordia, Gela, Marsala, Marina di Ragusa, Agragas ed Enna nella prima parte della stagione. Il nostro telegiornale termina qui, vi lascio al metro alle informazioni di pubblica utilità. rimanete con noi. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì quando tutto il Mediterraneo sarà ancora una lacuna barica e dove si inseriranno delle correnti molto umide, foriere di precipitazioni nel fine di settimana un po' dappertutto. L'anticiclone di fatti rimarrà molto a nord in direzione Scandinavia. Nel dettaglio possiamo notare questa gran variabilità che attanaglierà tutta Italia tra schiarite e annuvolamenti più compatti sul nord-est e sulla parte tirrenica. E poi in sintesi la mappa dell'Italia, le piogge in arrivo dal pomeriggio su parte delle due gele maggiori, il vessante tirrenico specie Lazio, molte nubi e qualche fenomeno anche sul nord-est ma sarà soprattutto nel weekend che una perturbazione arrecherà piogge rovesci su tutta Italia con neve sulle Alpi. Dettagli maggiori scaricando l'app di Trebi Meteo.